Come sai? Che estate stai passando? Allora, estate di prove, ora parte il tour, insomma, bella, molto bella. Senti, ma quante estate hai passato a Roma? Tutte. Tutte? Cioè, perché Roma è una città che, vabbè, tu canti molto spesso, però d'estate cambia e diventa un'altra città, diventa un po' tua, no? Perché vanno via tutti i romani, in alcuni quartieri non ci sono neanche troppi turisti. Qual è il tuo quartiere preferito? Beh, Trastevere. Trastevere, belli turisti ci sono. Però ci stanno, no, però ad agosto non ci stanno, c'è una bella citazione di Cicoria, no? Roma ad agosto non è un bel posto. Escono in giro, insomma, non si può dire, poi continua, però, insomma, è così, è veramente così. È vero, è vero. Quindi quest'estate stai provando, ti stai preparando, vorrei anche un po' di vacanza? Non penso, penso che vado a settembre e voglio andare in Corea del Sud. Eh, sono tutti lì, tanti cantanti mi dicono, e vi ritrovate tutti lì? Non lo so, buono. Te lo dico. Sì, veramente, ecco. Ah no, non ci vado. Vai a Madagascar. Allora vado e magari sai. No, però bello, un viaggio che ti cambia, ti cambia la vita sicuramente. Speriamo, di meglio. Grazie mille, ciao Brave, ti auguriamo. Grazie, grazie a tutti, grazie a te. Questa ti possiamo augurare? Ogni bene possibile.